il bullone presenta pezzi di bullone il mondo visto dai believer il podcast che vi accompagnerà tra le pagine del nostro giornale buon ascolto bullone numero 59 60 non episodio di pezzi di bullone questo numero del bullone è un numero veramente speciale insomma tutti i numeri lo sono però questo un pochettino di più perché questo è il numero del compleanno del bullone 6 anni di giornale 60 numeri stampati 42 ragazzi riconosciuti come pubblicisti ad onore dall'ordine dei giornalisti insomma un sacco di interviste tantissimi incontri sono stati 6 anni veramente bellissimi e allora in questa puntata partiamo da una lettera una lettera anche questa super speciale firmata dagli amici sopra le nuvole del bullone caspita 6 anni che bello noi siamo passati da cronistacci che scrivevano ogni mese spinti dal nostro irriducibile direttore rompipalle giancarlo a grandi ispiratori eh sì ci sono tanti modi per stare dentro al bullone per stare con tutti noi secondo noi la strada percorsa è tanta qualche buca è ma abbiamo azzeccato un sacco di temi il bullone è al centro di un dibattito nuovo da qui dove siamo noi si capisce molto meglio c'è una visione di insieme l'abbraccio è totale come dice la cristoforetti su questo numero ogni volta che gira attorno alla terra con il suo missilino è come se abbracciasse l'umanità intera noi ci accontentiamo della nostra postazione e di abbracciare i believer certo anche i nostri familiari altrimenti si incazzano comunque vi vediamo bene andate avanti noi continueremo a suggerire degli spunti non fate i fighi però è tutte le idee che tirate fuori durante le conioni di relazione sono spinte da noi noi raccogliamo un fiore lo lanciamo e a voi nasce l'idea non tiratevela quindi ok il prossimo numero impostatelo sulla comunicazione sui giornali e sulla verità da qui si capisce meglio chi parla vanvera e chi invece dice cose veramente sensate il nostro bullone pensa e fa pensare due informazioni eleonora ha trovato un posto in una pasticceria vuole aprirne una tutta sua e la chiamerà il cannoncino alessandro è sempre in laboratorio fa progetti ha inventato un materiale nuovo che attaccato al cuore comunica con i battiti va laggiù e si mette in contatto con il mondo poi c'è andrea che suona 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 sempre e clementina è cresciuta è bellissima insegna in una scuola si diverte ed è felice come tutti noi firmata eleonora alessandro e gli amici sopra le nuvole che bello immaginarli così e immaginare tutti noi così e ora passiamo al racconto di questo numero questa volta siamo partiti da un tema veramente gigante che ci ha tanto interrogato che in realtà continua a farlo il presente che verrà questo argomento è stato proposto dal nostro direttore giancarlo pergo che è rimasto veramente sorpreso dalla notizia del metaverso e dalla possibilità che i social si trasformassero veramente in un mondo a parte in cui ognuno poteva far vivere il suo avatar insieme allora ci siamo interrogati su quali saranno le notizie del futuro che cosa accadrà cosa leggeremo sui giornali dove ci porteranno l'innovazione la tecnologia e per farlo come sempre abbiamo parlato incontrato intervistato insomma abbiamo fatto un sacco di lavoro con tantissimi professionisti diversi che sono esperti del loro settore partiamo dalla cultura e dalla strepitosa intervista di gruppo che abbiamo fatto a mattio garrone regista produttore scrittore e sceneggiatore parlando con lui ci ha raccontato che non sa bene quello che succederà nel rapporto fra cinema e tecnologia ma che di una cosa è certo non è in pericolo il racconto per immagini al massimo lo è il modo in cui vediamo il racconto per immagini quindi secondo lui ad essere a rischio è la sala cinematografica è stato veramente bellissimo ascoltarlo dalle sue parole traspariva tanta semplicità e tanta purezza parlando con lui ci ha raccontato anche che ha sempre avuto una grande fascinazione per le storie e che ha traslato questa sua passione sulle immagini pensate che ci ha anche mostrato ci ha fatto vedere alcuni disegni e bozzetti che lui faceva fin da bambino parlando della produzione di dogman per la quale pensate che garrone ha scritto ben sette stesure ci ha raccontato di quanto i suoi film cambino in base a come cambia lui e che i film sono qualcosa che ti accompagnerà per tutta la vita è stato bellissimo sentire le sue parole che dicevano il mio cinema resta sempre favola il racconto trionfa sulle macchine rimanendo sempre in tema cultura ora parliamo di un'intervista speciale che alcuni believer hanno fatto insieme ai ragazzi di siamo i jedi e del carcer minori le beccaria insieme abbiamo intervistato andrea bocelli l'intervista la trovate a pagina 4 con lui abbiamo parlato di bellezza e innovazione e ci ha raccontato che dal suo punto di vista musica arte bellezza fanno la differenza e che il talento è un dono dal cielo non è qualcosa che si impara ma lo si può solo curare e allenare tutti i giorni per dare una cornice generale abbiamo deciso di parlare con alcuni professionisti dell'innovazione che potessero farci un po una fotografia della situazione attuale quindi adesso partiamo da giorgio metta professore direttore dell'istituto italiano di tecnologia di genova lui ci spiega che attualmente il tema fondamentale della ricerca tecnologica ha a che fare con il digitale senza il quale sarebbe difficile quasi impossibile ormai fare ricerca scientifica il professor metta ci ha raccontato che secondo lui è necessaria una ricerca approfondita per trovare soluzioni tecnologiche che permettono di inserire in principi etici all'interno dell'intelligenza artificiale una volta trovata la soluzione tecnologica al problema etico lui ci dice è però necessario che questi principi siano certificati solo così si potrà fare la differenza l'incontro con giorgio metta lascia il nostro cronista pieno di fiducia e di speranza per il suo futuro o meglio in realtà per il presente che verrà come diciamo noi e questa stessa fiducia è quella che emerge anche dal sondaggio fatto insieme a scuola zoo sul tema del rapporto dei giovani con la tecnologia circa mille ragazzi hanno risposto al sondaggio e i dati parlano chiaro i ragazzi passano un sacco di ore collegati ed è proprio per questo che diventa ancora più importante fare ricerca informazione su questo tema il 41 per cento degli intervistati ritiene che la tecnologia porti alla disumanizzazione e parlando di rischi legati all'uso costante della tecnologia ne spiccano alcuni perdere il contatto con la realtà depressione stati d'ansia perdere esperienze reali insomma i rischi ci sono ma i ragazzi ne sono pienamente consapevoli sanno riconoscerli e dargli un nome e dire che questa è veramente una competenza non da poco ma la tecnologia i social non sono solo portatori di rischi e stati d'animo negativi anzi al contrario pensate che alla domanda quali emozioni ti dà passare del tempo sui social le due risposte più flaggate sono state rilassatezza e felicità forse è proprio questa la chiave di lettura per osservare con uno sguardo critico e non giudicante i dati che parlano del tempo dei ragazzi sui social inoltre secondo me è molto interessante notare come la comunità dei giovani intervistati si spacchi in due alla domanda hai mai desiderato vivere senza tecnologia e allora lasciamo che questa domanda sia ancora aperta senza cercare per forza una risposta che forse ancora non c'è parliamo ora della tecnologia al servizio della salute e lo facciamo con due medici il professor franco molteni e professor roberto cairoli molteni è il direttore di medicina riabilitativa dell'ospedale velduce villa beretta dove ogni giorno viene fatta ricerca sull'esoscheletro una tuta robotica che permette di camminare anche a chi non è in grado di farlo ci racconta che un ambito importante su cui stanno lavorando è quello delle tecnologie domiciliabili che permettono quindi la continuità della cura tra ospedale e casa del paziente questo perché è la persona ad essere al centro e non solo la sua malattia il professor che ci dice che la tecnologia deve essere l'espressione della nostra volontà e non una sua sostituzione qui non stiamo trasformando le persone in robot ma stiamo trasformando i chip in emozioni e le emozioni dobbiamo sapere noi da dove vengono anche il professor cairoli ci parla dell'importanza di mettere la persona al centro lui è direttore del reparto di amatologia dell'ospedale niguarda ed è il presidente della fondazione malattie del sangue hollust è proprio grazie a questa fondazione che è stato sviluppato tra le altre cose anche un supporto psicologico per i pazienti e per le loro famiglie parlando con lui del presente che verrà nel campo dell'ematologia ci ha raccontato che dal suo punto di vista i farmaci a bersaglio molecolare rappresentano la più grande innovazione e che la direzione da seguire nel campo di ematologia è proprio quella ora parliamo di innovazione futuro siamo arrivati alla pagina 16 del bullone dove troviamo l'intervista a samantha cristoforetti e ci racconta che il suo futuro è ancora nello spazio e che è proprio da lì che guarda la terra con grande fiducia ci dice che nello spazio si vive come in una dimensione di leggerezza assoluta dove è tutto senza sforzo dolcissime sono le sue parole con cui descrive quello che prova quando lì nello spazio e ci dice ogni 90 minuti gli giri intorno alla terra come in un abbraccio è come se ogni ora e mezza abbracciassi l'intera umanità il suo è uno sguardo pieno di innamoramento e di fiducia parliamo ora dell'intervista a guido di fraia prorettore all'innovazione e all'intelligenza artificiale dell'università yulm di milano lui ci ha raccontato che l'approccio dell'uomo alla tecnologia è cambiato prima l'uomo dava semplicemente degli input corretti affinché le macchine sapessero cosa fare mentre ora diciamo alle macchine come imparare da sole parlando con lui dei progetti portati avanti dal suo laboratorio ci ha spiegato che stanno lavorando moltissimo sulla dislessia costruendo delle mappe cognitive che possano aiutare i ragazzi che ne hanno difficoltà di questo stesso tema si occupa anche silvia rossi professoressa del dipartimento di scienze sociali dell'università federico secondo di napoli dove è stato elaborato un social robot che aiuta gli studenti a studiare si chiama classmate e serve in particolare agli studenti che hanno bisogno di corsi speciali per portare a termine i loro programmi rossi ci racconta che l'idea è che questo robot diventi un supporto alla didattica in grado quindi di coinvolgere gli studenti e non di isolarli insomma la tecnologia non sempre isola come in tanti credono bisogna solo sfruttare nella giusta maniera rimaniamo sempre in tema educazione e tecnologia e parliamo del progetto ludomi ideato dalla professoressa franca garzotto all'interno del politecnico di milano e che si propone di creare nuovi servizi educativi in particolare per i bambini con disabilità cognitiva questi servizi sono basati su una soluzione tecnologica denominata magica lei ci ha raccontato che si tratta proprio di una stanza multisensoriale progettata per stimolare i sensi del bambino con disabilità cognitiva e noi devo dire che ne siamo rimasti veramente mega affascinati ultimo interessantissimo incontro che abbiamo fatto su questo stesso tema è quello con ed a gergo che direttamente dalla cina si è collegata con noi lei ha conosciuto il mondo dell'astrologia e della tecnologia pensate all'età di cinque anni quando sua mamma le ha regalato il suo primo atlante di astronomia da lì è nata la sua passione e la sua volontà di diventare un'astronoma cresceva in lei sempre di più questa grande passione e così anche l'ammirazione per margherita huck fino a quando è riuscita ad incontrarla era orgogliosissima lei ci ha raccontato che la lezione più grande ricevuta da huck è stata quella di semplificare sia nella vita quotidiana che nel pensiero scientifico e quindi di arrivare l'essenza delle cose concludiamo ora con un ultimo tema quello del rapporto fra la tecnologia e il lavoro e ne abbiamo parlato con luciano attolico fondatore della lean lifestyle company attolico ci ha raccontato che non crede più nell'equilibrio fra vita e lavoro questo rapporto ormai radicalmente cambiato ed è sfumato soprattutto adesso con l'arrivo della tecnologia ed è proprio per questo creato vita al modello lean lifestyle uno stile di vita da adottare dentro e fuori dall'azienda che mette al centro i risultati ma allo stesso tempo anche il benessere fisico emotivo e spirituale delle persone questa puntata di pezzi di bullone si conclude qui io vi saluto vi faccio gli auguri di buon natale di buon anno nuovo e ci rivediamo alla prossima puntata grazie per aver ascoltato pezzi di bullone il mondo visto dai believer vi aspettiamo al prossimo episodio scoprite di più su ilbullone.org risentiamo perché non è un programma